La selezione di ex calciatori delle squadre giovanili veneziane degli anni 70 e 80 Vecchia e Ossa Venezia torna in campo al torneo benefico di calcio a 5, organizzato dallo Sporting Club alla Grotta di Zellarino. L'evento è previsto per domani sabato 11 gennaio dalle 9.30 alle 13 sui campi del Circolo Mestrino. A sfidarsi ci saranno 6 formazioni con l'obiettivo di raccogliere fondi per la ONLU Stim for Children che si occupa dal 2009 di finanziare la scuola all'interno dell'ospedale con contratti per giovani medici e progetti di ricerca. È possibile iscriversi al torneo fino alle 9 di sabato mattina, semplicemente recandosi i campi da gioco. Per gli spettatori l'ingresso è gratuito ed offerta libera. Una coppia che passeggiava nel Bosco di Mestre ha rischiato di essere centrata da un colpo di fucile esploso da un cacciatore. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi nel boscotto Lenghi tra Favaro ed Ese, uno bello spavento per i due che hanno lasciato rapidamente il boschetto per evitare incidenti più gravi, senza però dimenticare di denunciare il tutto alle autorità. Non si tratterebbe di un episodio isolato, negli ultimi mesi sono state diverse le segnalazioni di braconaggio all'interno del Bosco di Mestre. Difficile sapere se che ha sperato fosse un cacciatore in regola o qualche braconiere, quello che è certo è che il boscotto Lenghi è zona protetta, interdetta alla caccia. Continua il dibattito sulla scultura di Tony Benetton posta alle porte del centro di Treviso. L'associazione commerciante di Porta Altinia aveva deciso di addobbarla di luce a LED in vista delle feste natalizie, ma ora che le feste sono terminate ci si domanda se mantenerle o toglierle, poiché offenderebbe una scultura rinomata. A storcere il naso ha non solo l'assessore comunale alla cultura Luciano Franchin, ma lo stesso figlio di Tony Benetton, Simon, che ha seguito le orme del padre. Averle illuminate in quel modo è stato davvero di cattivo gusto, ribadisce il figlio. Il 15 gennaio si riunirà la Commissione sull'identità estetica e verranno ascoltate le proposte dei commercianti e dei cittadini in merito all'illuminazione della scultura. La mini-IMU va pagata, ma il comune di Conegliano ha deciso di restituire ai contribuenti un buono spesa di pari importo per sconti su scuolabus, assistenza domiciliare per anziani, gentri socioeducativi e soprattutto sui biglietti del trasporto pubblico, una procedura che permetterà ai cittadini di riavere quanto prelevato. L'iniziativa interessa più di 12.000 famiglie e i contributi individuali, che si tradurranno in una trasformazione dell'importo in buono spesa, per Conegliano saranno compresi fra i 10-70 euro circa. Il caffè Pedrocchi si rifà il trucco. Dal 15 gennaio lo storico locale di Padova chiuderà per due mesi, il tempo necessario per realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui necessita, per un importo complessivo di mezzo milione di euro, spesa a cui contribuirà anche il comune. La riapertura del Pedrocchi da parte della nuova gestione, assegnata dal comune già otto mesi fa alla società milanese Fed & Group, dovrebbe avvenire entro marzo. Dopo il successo della prima edizione di Padova Sposi, torna l'11 e 12 gennaio l'appuntamento fieristico dedicato alle coppie in attesa del fatidico giorno del Sì. Location di questa edizione è il centro congressi La Bulesca Rubano, a qualche chilometro dal centro di Padova. Due giornate ricche di idee e spunti per rendere indimenticabile il grande giorno. Tanti prodotti in esposizione, dagli abiti da sposa agli articoli da regalo da inserire nella lista nozze. Si potranno conoscere fotografi addette agli allestimenti floreali, complessi musicali e tant'altro. La fiera sarà aperta dalle 14 alle 19 il sabato 11 e la domenica 12 dalle 10 alle 19.